buongiorno forse sarebbe il caso di dire buon risveglio visto che mi faccio trovare in pigiama il motivo è legato al fatto che oggi vi voglio parlare di coccole e di cure personali importanti perché come vi dico sempre per riuscire a comportarsi bene e con gentilezza verso gli altri è importante prima di tutto volersi bene volersi bene significa anche concedersi dei piccoli momenti di relax delle piccole pause in cui coccolarsi in questo video trovate due ispirazioni che potrebbero esservi utili per concedervi un attimo di relax piccoli gesti che io faccio realmente ieri ho sistemato dei fiori a me piace circondarmi di fiori oggi mi vedete in compagnia delle mie hortensie ieri ho sistemato le rose del mio giardino non rinunciate ai fiori perché secondo me sono un aspetto della natura che riesce a regalarci relax benessere favorisce in un certo senso la meditazione che è una cosa che aiuta a curarci ci regalano bellezza ci regalano serenità quindi un'ispirazione proprio questa quella di dedicarvi ai fiori di risistemare nel vaso io trovo davvero molto rilassante fare le composizioni toccare i petali sentirne il profumo la delicatezza è una cosa che mi rilassa molto in questa circostanza ero tra l'altro vicino alla finestra del balcone sentivo di uccendini cantare e per me era veramente come stare in paradiso e cosa faccio con i petali che cadono dalle rose mi faccio ulteriori coccole perché mi occupo della della mia pelle rimanendo ovviamente in pigiama perché sono due giornate per me di relax ne avevo anche bisogno e dobbiamo maturare come dire la consapevolezza di capire quando è il momento di fermarci di rilassarci di rallentare perché il nostro fisico ne ha bisogno la nostra mente ne ha bisogno ma adesso vi faccio vedere quei due o tre gesti che personalmente mi coccolano facendovi appunto vedere come utilizzo i petali di rosa che si sono staccati dal bocciolo ma di tutto mi detergo il viso lo tampono con l'asciugamano di cotone e poi o prendo il petalo così com'è e lo passo sul viso praticamente la morbidezza del petalo si trasferisce sul viso insieme al profumo della rosa fantastico e tra l'altro vedete come l'azione del passaggio sul viso lasci il petalo un po macerato gli altri petali li metto in una ciotola li copro con dell'acqua può essere fredda ma in questo caso era calda perché così l'infusione è più veloce strizzo i petali li tolgo dalla ciotolina e filtro l'infuso ottenuto così è più puro imbevendo il batuffolo di cotone mi tampono il viso perché praticamente questa è l'acqua di rose che funge da da tonico trovo che utilizzare i petali delle rose che che cadono ma che sono ancora bellissimi perché avete presente il la sensazione che vi dà il toccare il petalo di rosa bellissimo trovo che utilizzarlo per fare questi decotti sia veramente utilizzare il più possibile ciò che la natura ci concede l'ho messo in questo boccettino ritirato in frigo d'estate è molto piacevole perché anche fresco potete anche metterlo in quelle boccettine spray pronte all'uso anche se siete fuori mi ripasso quindi questo tonico quest'acqua di rose che tra l'altro si può anche bere ne mettiamo un po sul batuffolino e questa per me è già una coccola è rinfrescante sento il profumo delle mie rose tra l'altro questa tipologia di rosa veramente è profumatissima passo un po su tutto il viso e mi concentro proprio sulla sensazione che mi trasmette questo gesto sento la freschezza sento il profumo non vado a ciò che mi circonda mi rilasso fatto ciò ho qui dei prodottini che uso oggi per coccolarmi passo mettermi la crema questa l'avete sicuramente vista tra i regali di natale è veramente una coccola per me ha un profumo che mi piace tantissimo anche la consistenza la adoro mi leggo i capelli e con la palettina prelevo un pochino di crema questi sono i gesti che faccio praticamente tutte le mattine tra l'altro quando ho qualche secondo in più mi piace proprio mentre mi spalmo la crema farmi massaggi per stimolare la circolazione certi massaggi fanno anche un po' ridere e sorridere perché si fanno un po delle smorfie però servono davvero non preoccupatevi se mi vedete diventare un po rossa io sono veramente molto delicata il primo step è fatto mi metto anche un po di contorno occhi è un gesto che tendo a fare solitamente il mattino per rinfrescare lo sguardo anche questa questo contorno occhi qui mi piace ma in generale i contorni occhi in crema e con il beccuccio così mi piacciono mi piacciono molto anche qui mi concentro sul sul massaggio che belle coccole solitamente durante la settimana sono gesti che si fanno un po più velocemente un po più distrattamente invece quando ci sono queste giornate di relax ci si può proprio perdere nelle coccole poi oggi ho anche la fortuna di avere gli uccellini che fuori cinguettano quindi mi fanno di accompagnamento li sentite anche voi ok adesso passo a mettermi un po di balsamo sulle labbra uso questo qua giusto una passata e distribuisco il prodotto infine applico sulle ciglia un primer una cremina curativa diciamo qui ho bisogno dello specchio così da coccolare anche le ciglia che quando non si è più adolescenti mettiamola così hanno bisogno di un po di sostegno lo si può mettere il mattino prima del mascara ma anche la sera prima di andare a dormire semplicemente lasciandolo asciugare un pochino molto buono come prodotto voilà le mie mini coccole sono finite vi ricordo nuovamente il concetto su cui si basa questo video e cioè prendetevi cura di voi stesse perché è giusto volersi bene quindi non fatelo perché volete essere più belle per gli altri ma perché vi volete coccolare perché vi volete bene perché la prima persona a cui dovete rivolgere le attenzioni siete voi stesse e voi stessi perché questo è un discorso che vale sia per le donne sia per gli uomini invito voi a scrivere nei commenti quali sono i vostri piccoli gesti di cura come vi rilassate come vi prendete cura di voi stesse sicuramente leggendo un libro è un'altra cosa che mi piace molto fare facendo delle camminate nei boschi o anche semplicemente nel nel giardino insomma scrivete i vostri suggerimenti perché possono sicuramente essere utili a me e anche alle persone che come voi stanno guardando questo video non mi rimane che augurarvi buon relax e noi ci vediamo nel prossimo video